Un'indagine nata dalla triste vicenda di numerosi imprenditori vittime di estorsione dal lontano 2007. Otto uomini appartenenti alla famiglia Bifone, affrileata al cartello dei Belforte attivi nel Casertano, sono stati arrestati o hanno ricevuto avvisi di custodia cautelare in carcere con l'accusa di attività estorsiva aggravata dal metodo mafioso. Un sodalizio con un sistema ben preciso di riscossione, a Pasqua, Ferragosto e Natale, perpetrato dai membri del clan anche durante la detenzione mediante terzi. Il provvedimento è stato eseguito dagli uomini della stazione dei Carabinieri di Macerata Campania su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli. L'attività coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dalla stazione di Macerata Campana ha portato ad accertare che i soggetti oggi tratti in arresto gestivano un'attività di estorsione sugli imprenditori della zona. In particolare sono stati evidenziati otto episodi negli ultimi tre anni. Visto che è stato anche accertato un rimpiego illecito di questi fondi in attività lecite della zona, si procederà a un sequestro preventivo di beni nella disponibilità degli indagati in soggetti allora affini per un valore complessivo di 3 milioni di euro. È particolare il fatto che alcuni di questi, indagati e arrestati, sono già ristretti ed erano già ristretti per analoghi reati a seguito di un'attività del novembre 2012. Disagi questa mattina a Napoli per pendolari e altri utenti del trasporto pubblico su ferro completamente fermo per tutta la mattina il servizio di Circunvesuviana, Sepsa, Circunflegrea e Metro Campania per lo sciopero proclamato di 4 ore dalle 9 alle 13 da CGL, CISL, UIL e UGL che ha interessato i lavoratori delle aziende del gruppo EAV. Secondo le sigle sindacali le percentuali di adesioni sono state molto alte, così come i disagi per l'utenza. Adesso non posso salire quindi? Non mi sono rimasto fregato. Purtroppo sono dovuto venire nelle fasce che erano garantite perché comunque devo andare a seguire i miei corsi all'università e l'unico modo per muovermi da quarto è la Circunflegrea quindi questo è il modo in cui mi devo regolare purtroppo. Ma se avevo 20 anni di meno mi trasferivo, spero che mia figlia si trasferisca perché qua non si può vivere, è assurdo. Da 11 mesi non percepiscono lo stipendio, così stamattina è scattata l'ennesima protesta da parte di un gruppo di lavoratori degli ex consorzi di Bacino. Da settimane in stato di agitazione i manifestanti hanno presidiato per tutta la mattina la sede della prefettura di Napoli in attesa di essere ricevuti dal prefetto. Dieci giorni fa sempre i lavoratori dei vecchi consorzi per la gestione della raccolta dei rifiuti avevano bloccato l'impianto di incenerimento di Acerra. La protesta di questa mattina è stata organizzata per sollecitare la trattativa con il Ministero dell'Ambiente al fine di sbloccare la necessaria copertura finanziaria per il pagamento degli stipendi arretrati. Il nostro problema che con noi lavoriamo attualmente è su 12 mesi che non ci pagano. Questa è la base principale. Poi secondo te la cosa noi stiamo lottando per il nostro futuro perché più di noi teniamo 50 anni. È la nostra situazione, se noi non vediamo ci vogliono dare la cassa integrale a intero ma a noi non ci interessa la cassa integrale a intero, non ci interessa di lavorare. Giornata intensa in consiglio comunale questa mattina a Via Verdi a Napoli. Durante il question time si è discusso sulla ricollocazione dei 52 ex dipendenti della Birra Peroni e sulle problematiche occupazionali, ma anche sulle opere di abbattimento e ricostruzione degli alloggi popolari, corrisposta in aula dell'assessore al patrimonio Fucito. A tenere banco anche la vicenda giudiziaria che ha investito il vice sindaco di Napoli Tommaso Sodano. Questa mattina da parte dell'opposizione è stata presentata una mozione di sfiducia nei confronti del numero 2 di Palazzo San Giacomo. Il capogruppo del PDL, Marco Mansueto, ai nostri microfoni ha spiegato. Riteniamo che chi governa una città, un ente pubblico, debba rispettare le norme e le leggi. Lui vuole cercare di far distrarre sul discorso di un'insorgenza civile, quindi c'è il rispetto di tutte queste norme, assolutamente no, perché calpestare i diritti di un dipendente pubblico, in quel caso in particolare anche una donna, significa non saper governare, significa non rispettare le leggi. Immediata la risposta da parte della maggioranza che giudica l'atto proposto dall'opposizione del tutto immotivato. Vincenzo Pace, di Centro Democratico, precisa. Noi riteniamo che da un punto di vista politico si tratti di mera speculazione politica. Se poi si vuole supportare con altre argomentazioni un fatto del genere, bisognerebbe andare a un contraddittorio tale per cui gli spettatori, i cittadini potessero anche vedere le carte e capire che si è trattato di quello di cui parlavo io. Torna a Napoli all'ipodromo di Agnano il Gran Premio Lotteria, una delle quattro prove del grande slam europeo. L'appuntamento è per domenica 13 ottobre quando si avvicenderanno sulle rinnovate piste le tre batterie 24 cavalli in gara. Il lotteria Trofeo Cesare Attolini sarà l'epilogo della tre giorni di meeting internazionale di Trotto che prenderà il via venerdì e proseguirà anche sabato con inizio alle 14. Sorteggiata la griglia che vedrà in avvio alle 14.30 la C con questo ordine di partenza. L'IRAS, Owens Club, Marlon O.M., Luke MP, Hyper Rock favorito e vincitore dell'ultimo freccia d'Europa, Oibambam F, Lothar B e Napoleon Bar. Alle 15 in programma la batteria B con questo ordine di partenze. Mururo A S, Moses Rob, Lunitunes, McGrace SM, questi sicuri favoriti, Marielles, Negros Milar, Orsia e Osasco di Ruggi. La batteria A sarà la terza, quarta corsa di giornata con partenza alle 15.30 e questa griglia. Novarica, Linda Di Casei, Maestrale Spin, Orleans OM, Commander Crow, la stella del lotteria tra i più forti cavalli del mondo Langdon Grif, New York, New York e Oven CR. Ma l'appuntamento sarà caratterizzato anche da un gradito ritorno. L'ospedizione Varenna, ritorna a Napoli, nella Napoli che ci ha regalato grandi emozioni grazie al senso di devozione e di amore per questa città, Enzo Giordano, che ha voluto partecipare personalmente alla cordata che ha salvato Agnano e si è impegnato a riportare Varenna a calcare la pista di Agnano. Chiaramente Varenna non tornerà, purtroppo, da protagonista nella competizione reale, ma farà una sfilata, aprirà la sfilata e Varenna sarebbe stato in grado ancora, a mio avviso, nonostante gli anni di monte e l'età, di correre con onore perché è un cavallo che non ha fine. Parte del ricavato della vendita dei biglietti d'ingresso del lotteria Cesare Attolini sarà devoluta dalle ipodromi partenopei SRL alla Lilt, Lega Italiana, lotta a tumori, sezione di Napoli, presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, Fondazione Pascale. In particolare, sarà sassonuto il progetto Aria Qualità della Vita, dal curare al prendersi cura. I registi Francesco Rosi, Daniele Gagliannone e Robin Campillo inaugurano mercoledì 16 ottobre la terza edizione di Venezia a Napoli, il cinema esteso. La rassegna, programmata fino a domenica 20 ottobre, organizzata dall'Unione Agis Campania insieme a Parallelo 41 Produzioni per il coordinamento di Antonella Di Nocera, collaborazione di Archie Movie, Teatro Area Nord e gli istituti di cultura di Napoli. Un'occasione non solo per unire simbolicamente due grandi città, Napoli e Venezia, realtà culturali riconosciute nel mondo, ma anche un'occasione per parlare di cinema, come sottolinea Antonella Di Nocera ai nostri microfoni. Filme che si vedranno in varie sale della città, dal centro alle periferie, otto sale che ospiteranno visioni e incontri con registi ed autori. Un'occasione che noi pensiamo soprattutto per i giovani ed è per questo che si è siglato un patrocinio con le varie università napoletane che promuoveranno la rassegna di incontri per i loro studenti. Grazie. 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 Grazie.